Un pomeriggio Ministro, Andrea Colella a Juventus TV, io le chiedo anche in vista della partita di giovedì se avrebbe preferito affrontare una Cremonese già quasi condannata alla Serie B piuttosto che ancora in piena corsa. Non dobbiamo pensare se la Cremonese fosse, tra l'altro nel giro di ritorno sarebbe salva perché ha fatto tre punti più delle concorrenti per la permanenza in Serie A, Ballardini sta facendo un ottimo lavoro ha ottenuto dei buoni risultati, è una squadra comunque che subisce poco, è una squadra che in contropiede è molto pericolosa e queste sono le partite più pericolose che vanno affrontate con grande rispetto perché nessuno regala niente le partite vanno avanti sul campo, non è utile parlare prima perché altrimenti poi dopo ci facciamo del male dopo ci mettiamo di cattivo umore e abbiamo una partita giovedì che è molto importante è importante quanto è importante quella con la Cremonese domani. Buongiorno mister Giovane Albanese Sport Italia, generalmente in queste partite si parla di turnover la percezione oggi, a differenza delle state scorse, è che le prime linee e le seconde linee di questa rosa abbiano un livello quasi omogeneo, il gap si è ridotto, almeno questa è la percezione. Io le chiedo se è soddisfatto del lavoro che avete fatto nella crescita di tutti quei giocatori che non avevano esperienza in un top club come la Juve nel corso della stagione e quanti margini di crescita ci sono ancora? Grazie. La Juventus stiamo facendo un buon lavoro e bisogna continuarlo a fare per far sì che questi giocatori debbano crescere sotto il punto di vista tecnico, tattico, di esperienza perché solo giocando acquisiscono esperienza. Momentaneamente siamo secondi in classifica e questo all'inizio del campionato soprattutto come sono andate le cose era difficile e bisogna cercare di consolidarlo. Domani bisogna fare un altro passettino avanti, il man mancano quattro partite. Poi dico sempre che comunque sia a 18 anni che a 35 bisogna arrivare sempre al campo con la voglia e la determinazione di volersi migliorare. Poi un giorno quando uno smette poi dopo allora li cambiano le cose. Però fino a quel momento che uno smette deve avere sempre la voglia di migliorare. Buongiorno, Giovanni Guardalasca e Sport. Le chiedo la condizione insomma di qualche acciaccato. Intanto come sta Bremer, come sta Rabiot? Se ha deciso di non convocare qualcuno per farlo rifiatare e se giocherà Perin? Allora, domani gioca Perin, Bremer è a posto, Rabiot stamani ha fatto differenziato come quelli che hanno giocato l'altro giorno, non tutti, soprattutto quelli che hanno giocato tante partite però domani sicuramente sarà a disposizione. Domani, ripeto, dobbiamo pensare alla partita di domani, non dobbiamo pensare alla partita di giovedì. Domani la partita più importante è quella domani, quella più vicina. E quindi domani è la Cremonese, che sarà difficile da abbattere, ma comunque bisogna batterla. Buongiorno, mister. Alberto Mauro, messaggero Juventus News24. Le chiedo quali sono le sue aspettative nei confronti di Pogba per questo finale di stagione e poi per l'anno prossimo, se lei pensa che possa tornare a essere quel leader che non è stato quest'anno. Grazie. Per quanto riguarda Pogba sta crescendo di condizione, ha fatto 25 minuti bene, soprattutto poi quando le partite diventano vicine all'aria nella metà campo avversaria e diventa ancora un giocatore straordinario. È normale che avrebbe bisogno di giocare tante partite per trovare la condizione, ma lo sa anche lui, ne abbiamo parlato tante volte, in questo momento l'importante è che sia a disposizione per un tempo, per mezz'ora, per quello che è, soprattutto perché giocando una volta ogni tre giorni è difficile che riesca a recuperare da un'intera partita. Buongiorno, mister Filippo Bonsignore, Corrierello Sport. Le chiedo qual è lo stato d'animo suo e del gruppo in questo periodo, visto che c'è il rischio che il lavoro che state facendo sul campo possa essere vanificato poi da altri eventi esterni che conosciamo. Il morale è buono, anzi, voglio dire, soprattutto è ottimo, dopo il gol alla fine con il Sevilla è ancora più buono perché comunque ci dà la possibilità, nonostante che non fosse chiuso il passaggio anche in caso di sconfitta, di andare laggiù e giocare una finale alla pari. Poi in campionato, come ho sempre detto, noi in campionato bisogna fare il nostro, il nostro qual è? Rimanere nelle prime quattro, Ora bisogna difendere il secondo posto perché comunque siamo lì e una volta che noi sul campo abbiamo fatto il nostro dovere poi sulle cose esterne non possiamo farci assolutamente niente. Buongiorno, mister Nicola Balice, calciomercato.com Una domanda su Ken. Dopo Juve Verona ha saltato cinque partite tra infortuna e squalifica ma per altre cinque partite è stata a disposizione e non è entrato nemmeno per un minuto. C'è una motivazione particolare di condizione tecnica, di atteggiamento? Grazie. No, tra l'altro Ken sta molto bene ora, è rientrato in una buona condizione. Purtroppo nel momento migliore ha fatto con l'ingenuità a Roma, poi si è infortunato e ha perso un po' di tempo. Poi è rientrato anche prima perché ha fatto un buon lavoro e la disposizione è una risorsa su cui io conto molto. Paolo Pirisi, Tutto Sport. Le chiedo se un po' dalle parole dei giocatori si evince il fatto che questa squadra ormai si sia creata una corazza anche dai fattori esterni. se questa cosa in questo momento vi dà delle energie oppure ve le sta togliendo? Un po' la sensazione di giocare contro tutto e contro tutti. Grazie. Questa ci dà solamente energia perché comunque il fatto di dover fare una cosa importante comunque a livello mentale dopo un'annata così poi noi comunque non abbiamo non ci siamo mai lamentati di arbitri, robe anche su fatti oggettivi quindi noi dobbiamo concentrarsi su quello che dobbiamo fare sul campo perché altrimenti abbiamo un dispendio di energie importanti. L'altro giorno per dire col Siviglia la squadra credo che negli ultimi sei minuti è stata molto brava a gestire la palla a cercare con velocità e con calma e con tecnica di trovare la soluzione migliore per poter pareggiare poi è venuta l'ultimo sul calcio d'angolo però in quel momento lì dopo l'episodio di Rabiot si poteva perdere ordine e magari subire 2-0 e su questo la squadra è stata molto matura ma in tutte le cose che ci succedono e quest'anno ce ne sono successe parecchie noi l'abbiamo trasformata in un'opportunità e ora mancano 20 giorni bisogna essere bravi a fare il massimo di quello che possiamo raccogliere. Ultime due domande, grazie. Buongiorno mister, Filippo Cornacchi alla Gazzetta dello Sport in questa settimana John Elkan ha aperto a Giuntoli all'arrivo di Giuntoli dicendo che decidera lui Calvo prima della partita di Europa League ha detto che si sta già programmando il futuro Di Maria alla vigilia ha già detto che parla con la società del futuro dicendo che può rimanere con o senza coppe volevo capire lei quando parla del futuro secondo lei cosa manca a questa Juve per tornare a lottare per lo scudetto il prossimo anno quando ne parla con la società intendo? In questo momento qui bisogna pensare solamente per quanto mi riguarda bisogna pensare solamente arrivare al 5 giugno 4 giugno dopo Udine nelle migliori condizioni cercando di arrivare in finale di Europa League che non è facile e rimanere nei primi quattro posti poi per quanto riguarda le altre decisioni sono decisioni della società su quello che sarà il futuro dal direttore sportivo ai giocatori queste sono tutte cose che riguardano la società Buongiorno mister Domenico Marchese della Repubblica la stagione di Bonucci è stata molto sfortunata per i tanti infortuni l'ultimo dei quali è arrivato con il Siviglia le chiedo due cose la prima se pensa di poterlo recuperare per un eventuale finale al 31 di maggio e la seconda quanto questi infortuni in questo momento della carriera con il suo passato possono avvicinare la fine appunto della carriera grazie mille Per quanto riguarda la fine della carriera sono decisioni che spettano singolarmente dipende uno come si sente cosa vuol fare lei è un ragazzo intelligente capirà e sceglierà per il bene suo e per il futuro perché come si dice sempre il giocatore ha due vite e nasce due volte però l'altro giorno ha raggiunto un traguardo storico 500 partite nella Juventus e in pochi l'hanno fatti e quindi io sono orgoglioso e contento di aver lavorato con lui per tanti anni anche con battibecchi e robe cose perché comunque è stato in tutti questi anni un giocatore straordinario e quindi sono molto contento e credo che queste 500 presenze se le sia tutte meritate poi per quanto riguarda gli infortuni purtroppo ha avuto questi acciacchi però è stato sempre presente perché Leo tra l'altro è stato è un giocatore che comunque quando gli viene chiesto di giocare e gli è stato chiesto di giocare anche in condizioni come l'anno scorso dove non stava bene si è sempre messa a disposizione per la squadra e su questo sicuramente bisogna fargli assolutamente un applauso perché non è facile trovare dei giocatori così Com'è? È la finale vediamo hanno dato 15-20 giorni di prognosi 20 giorni siamo al limite quindi vediamo dai speriamo di riaverlo il prima possibile comunque a far parte del gruppo per la parte finale della stagione Grazie a tutti Grazie Buona giornata Grazie